Grazie a tutti. 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 Ok, va bene, grazie. Ci perdiamo? No, è l'unico partaggio per il pulma questo. No, è l'unico partaggio per il pulma, è l'unico partaggio per il pulma, è l'unico partaggio per il pulma. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Seconda destra. Seconda destra. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Ma che grosso, qui è un fucilone. Piano, 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 chi c'è qua? Che no, guarda, 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 guarda. Amore, è vero che non si rompe? No amore, non ti preoccupare, guarda, 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 guarda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.